A Montana d'oltre 20 milioni di euro i fondi del PNRR utilizzati per realizzare 10 progetti per la riqualificazione di numerosi quartieri periferici e centrali di Chieti. Grazie a questo intervento, ha sottolineato il sindaco Diego Ferrara, entro il 2026 sarà completata la più grande riqualificazione della città. Questo progetto non a caso si chiama Rigenera Teate o Rigeneriamo Teate perché riporterà la nostra città ad una nuova luce con nuovi spazi e una funzionalità e una riscettività e accessibilità maggiori. Stiamo determinando nuovi proprio scenari per i nostri quartieri, infatti questo progetto di rigenerazione avverrà in tutta la città, sia la parte alta che la parte bassa e le periferie. E quindi siamo dei visionari perché nonostante tutte le difficoltà che stiamo vivendo da un punto di vista finanziario, siamo riusciti con la nostra forza e la nostra volontà a portare avanti, tant'è che i progetti sono a livello esecutivo definitivo, quindi si stanno facendo le gare e per molti di questi progetti si stanno già facendo gli affidamenti. E quindi credo vivamente che per la fine della mia legislatura queste opere saranno portate a compimento. Dieci interventi che vanno a cambiare il volto della città, sia per quanto riguarda palazzi storici abbandonati da anni, ma sia soprattutto con interventi che vanno a migliorare la qualità della vita. Parlo ad esempio del nuovo parco all'interno della zona di Filippone, parlo dell'intervento della riqualificazione del palazzo Eden e Massangeli, dove di fatto noi andiamo a ridare la città con l'obiettivo di renderlo fruibile come uno spazio nuovo di arte moderna e di uno spazio collegato al Teatro Marruccino. Andiamo ad intervenire sulla scuola Ex Nolli, dove l'obiettivo dell'amministrazione è quello di ridarlo alla città di Chieti come scuola reale. E tutti interventi che di fatto rivanno a rinvenzionare la città con nuovi servizi e con nuove prospettive future per migliorare l'assetto urbanistico della città.